La musica è un modo di comunicare, è musa ispiratrice di emozioni e anima e vita. Ogni individuo lo percepisce in modo diverso, ma tutti hanno il diritto di poter ascoltare e vivere circondati di magia. È l'obiettivo che si pone la Sop Opera Dream, la formazione composta da tre elementi, la soprano Elisabetta Maddalena Cordella, Manuel Manieri al pianoforte e Luca Casadei alla Fisarmonica. Tante le piazze e i borghi con cui il gruppo ha omaggiato il pubblico, ma soprattutto coloro che hanno potuto ascoltare con il cuore per la prima volta i brani e le romanze attraverso il linguaggio dei segni. Elisabetta, qual è il vostro repertorio per il 2024? La formazione Sop Opera Dream propone un repertorio versicolore, un arcobaleno musicale che nasce dando voce alle arie del celebre maestro Giacomo Puccini, percorre i decenni salienti della nostra cultura musicale italiana, terminando con i mitici, sempreverdi, New Trolls e Camaleonti. Da diversi anni eseguite concerti tradotti in LIS, che cosa significa? La formazione Sop Opera Dream esegue dal vivo concerti, diari e romanze tradotti simultaneamente in LIS, lingua dei segni italiana, tramite Davide Falco e Graziana De Mola. Tutto ciò che viene eseguito, tutto ciò che viene musicato ed interpretato è contemporaneamente tradotto in LIS affinché i sordi possano udire nel palco, nella platea, nella piazza, in base alla location in cui ci si esibisce in quell'occasione. Voi avete anche un sito internet per chi volesse seguirvi? Noi abbiamo una pagina, Facebook, Sop Opera Dream. Per quanto riguarda Pesaro, capitale della cultura, 2024, avete dei progetti? Noi abbiamo un bellissimo progetto che accompagna e sostiene il discorso della LIS, di questo arcobaleno musicale. Ci sarà una sorpresa, quindi saremo muniti di un videoproiettore che darà delle informazioni aggiuntive ai brani. Durante i concerti verranno proiettati su maxi schermo dei veri e propri disegni animati realizzati a mano. Tali cortometraggi attraverso le immagini accompagneranno ogni brano eseguito. Un'ulteriore aggiunta al nostro obiettivo accessibilità. Offriremo note e colori. Ognuno potrà gustare la nostra musica, ammirarla con i propri occhi, percepire le vibrazioni, ascoltarla con l'udito o per mezzo della lingua dei segni italiana. È l'obiettivo della soppopera Dream. Offrire la musica, il canto ed arrivare al cuore della gente. Dimostreremo che con la giusta interpretazione, preparazione, maestria, è possibile eseguire vocalmente qualsiasi brano strumentale. La sottoscritta, insieme ai performer Liss e ai musicisti, percorrerà questo arcobaleno musicale per un solo fine, offrire la musica a tutti indistintamente.